Nasce a Napoli e cresce a Marigliano, un piccolo paese dell'Interland partenopeo. All'età di 14 anni entra a far parte di una compagnia teatrale locale portando in scena spettacoli. Di autori come Eduardo De Filippo, Raffaele Viviani, Eduardo Scarpetta, dopo la maturità scientifica frequenta la scuola di formazione teatrale «I Dieci Mondi» di durata triennale, diretta dal docente attore Nando Paone in collaborazione con Cecchi Sommella. Parallelamente si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli. Con la compagnia diretta dallo stesso Nando Paone è protagonista di vari spettacoli, recitando testi di autori come Goldoni, Pirandello e Molière. Nel 2010 abbandona gli studi in giurisprudenza e si trasferisce a Roma dove si iscrive al corso di laurea in Dams presso l'Università Roma III. Laureandosi nel 2014, ed inizia ad approcciarsi al mondo del cinema configurazioni e piccoli ruoli in fiction e film. L'anno successivo viene selezionato da Elio Germano, Valerio Mastandrea e Laura Muccino per prendere parte al corso di recitazione della neonata. Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè. Durante gli studi lavora in molti cortometraggi e collabora con la compagnia stabile del carcere. Di Volterra diretta da Armando Punzo. Recitando anche in due suoi spettacoli. Nel 2013 viene scelto da Ettore Scola per interpretare il ruolo di Vittorio Metz nel film che, strano chiamarsi Federico, presentato alla settantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e vincitore del premio Jaeger Le Culture Glory to the Filmmaker. L'anno seguente è diretto da Nicola Ragone e Daniele Cipri nel cortometraggio Sonder Commando. Nello stesso periodo è protagonista di un corto supervisionato da Sofia Scandurra presso. L'Università Roma 3 viene scelto da Luca Miniero per lo spot Rio Mare al fianco di Kevin Costner. Nel 2015 prende parte all'opera prima di Marco Danieli, La Ragazza del Mondo, prodotto dalla CSC Production. Inoltre viene scelto per un piccolo ruolo sia da Stefano Sollima nella seconda stagione di Gomorra, sia da Daniele Vicari per il film Sole Cuore Amore. Nel 2016 è protagonista del cortometraggio Una proposta da sogno e dello spot Compass. Entrambi diretti da Luca Lucini.